Gentili telespettatori, buona giornata. La Francia nuovamente contro il governo italiano sul tema dei migranti, perché i migranti che entrano in Italia poi una parte finisce in Francia. E così il ministro degli interni francese contro Meloni dice la Meloni è incapace di gestire l'emergenza migranti e così rischia di saltare la visita di Tajani. Pochi giorni fa la Francia aveva schierato altri 150 militari sul confine italiano contro i passaggi di clandestini dall'Italia alla Francia. E così in un'intervista radio il ministro Darmanin francese degli interni ha definito proprio il governo Meloni incapace di affrontare il problema dei migranti nonostante le promesse elettorali. E così aggiunge Meloni, governo di estrema destra scelto dagli amici di Marine Le Pen è incapace di gestire i problemi migratori per i quali è stata eletta. Perché il suo successo elettorale deriva principalmente dalla promessa più grande che era quella di fermare i barconi e non lo ha mantenuto, dichiara Darmanin parlando a radio RMC. Così il contraccolpo in Italia è immediato perché rischia di saltare così la visita del ministro degli esteri Tajani prevista per oggi a Parigi. E così Tajani ha in agenda un incontro in serata con la collega francese Caterine Colon, un bilaterale previsto da tempo ma dalla delegazione del ministro trappela che il viaggio potrebbe essere cancellato in mancanza di un chiarimento deciso e definitivo da parte delle autorità francesi per le dichiarazioni offensive e totalmente inaccettabili di Darmanin. Darmanin, dicono dalla Francia, è colpevole di aver detto semplicemente la verità. Fonti francesi rimarcano ma cosa doveva essere? Iprocrita? Dire che stava gestendo benissimo l'immigrazione? C'è, dicono in Italia, il record dei record degli sbarchi e la responsabilità è sempre di chi governa. Non si può dare la responsabilità a chi c'era prima o chi verrà dopo. Naturalmente definiscono sempre governo di estrema destra. All'estero quando si parla dell'Italia si parla sempre di estrema destra. È un modo per accostare chi governa in Italia al fascismo, estrema destra. In realtà il governo Meloni non è estrema destra ma è semplicemente destra. Gli estremi sono extraparlamentari e sono un'altra cosa. pochi giorni fa la prima ministra Elizabeth Born aveva annunciato all'Assemblea nazionale che il governo si apprestava a schierare 150 agenti in più e militari alla frontiera con l'Italia proprio per rafforzare i controlli contro i passaggi illegali dei migranti. Perché la Francia ha paura che questa ondata migratoria che arriva in Italia possa risalire la penisola tentando di raggiungere la Francia. Ma il problema di Macron è proprio la politica interna. La Francia sostiene le ONG, la Francia finanzia le ONG ma poi non vuole che nessuna ONG torni indietro, non vuole che nessuno arrivi sul suo territorio e questo è una voce unica sia di destra che di sinistra. L'Eliseo ha dovuto rimandare l'approvazione della nuova legge sull'immigrazione perché non dispone dei numeri sufficienti in Parlamento. E per recuperare consensi in Francia per Macron e il suo governo fare la voce grossa contro l'Italia e contro quelli che vengono definiti gli amici di Marine Le Pen è torna utile ai fini elettorali. Perché nel sud della Francia ci sono ingressi illegali dice il governo francese soprattutto di minori incolpando l'Italia. La verità è che in Tunisia c'è una situazione politica che significa che molti minori in particolare salgono attraverso l'Italia e che l'Italia non è in grado di gestire questa pressione migratoria ha insistito il ministro perché la Meloni è come la Le Pen viene letta su promesse come vedrai cosa faremo e poi quello che vediamo è che l'immigrazione non si ferma. e poi la destra francese rimprovera a Macron che la situazione è fuori controllo in visita poi così al centro di accoglienza di Nizza. Tagliani era tornato a dire che la soluzione dell'emergenza deve essere trovata in sede europea quindi come voi sapete la promessa del blocco navale subito era diventata su ordine della Meloni blocco navale europeo subito aggiungendoci la parola europeo ma oltre a quello c'è anche il corridoio del Mediterraneo, dei Balcani come si risolve il problema a monte lo si risolve in Africa, in Medio Oriente serve una strategia con grandi investimenti economici lo fa l'Europa non si risolve il problema per questo insistiamo sul coinvolgimento dell'Europa pertanto non siamo neanche più al blocco navale europeo subito ci vogliono investimenti europei subito quindi non più il blocco delle partenze ma degli investimenti per fermare le partenze che è una cosa che ci vuole tempo, tempo, decenni per una cosa del genere non sappiamo neanche se mai comincerà e se poi mai verrà portata a termine anche perché l'impegno economico è enorme e nessun paese lo vuole avere grazie a tutti e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti